Michelle Unziker positiva al covid, come sta trascorrendo la quarantena? Michelle Unziker è positiva al covid e sta trascorrendo la quarantena in casa, non è abituata a stare ferma, ma sta impiegando il tempo in modo proficuo. Michelle Unziker è positiva al covid, è asintomatica e sta trascorrendo la quarantena in casa, circondata dall'affetto dei suoi amatissimi cani. Ma non solo, perché in questi giorni sta provando a condividere un concetto importantissimo. Il self-love, l'amore verso se stessi, a cui la Unziker ha sempre tenuto. Per fortuna sta bene e, tra un abbraccio ai suoi cani e l'altro. Si sta tenendo in forma, prendendosi cura di se stessa, condividendo sempre tutto sui social. Michelle Unziker positiva al covid, la quarantena è in casa. Ritrovandosi in isolamento, la Unziker sta approfittando di questi giorni per svolgere delle faccende in casa e per prendere anche un po' di sole nel suo terrazzo. Per qualche tempo, il bancone di striscia la notizia dovrà fare a meno di una delle sue conduttrici di punta. Il tg satirico al momento è condotto da Jerry Scotti e da Valeria Graci. Generalmente, siamo abituati a vedere Michelle fuori, tra lavoro e fughe d'amore con Giovanni Angiolini. Nonostante al momento si trovi in casa, la Unziker rimane quel concentrato di energie che non possiamo proprio non invidiare. Il covid ha frenato solo in parte la conduttrice, che, per fortuna, essendo asintomatica. Sta trascorrendo il suo tempo in modo proficuo, una sorta di pausa dal mondo, con una piccola nota dolente perché non è abituata a star ferma. Ho smontato tutti gli armadi della casa, ha svelato in una storia su Instagram. Ho pulito tutto quello che c'era da pulire e mi san detta. È una bellissima giornata, il mondo fuori va avanti e si muove senza di te, Michelle. Sei abituata a fare un miliardo di cose al giorno e non le puoi fare, punto. Dopo le faccende domestiche, è arrivato il momento di rilassarsi sotto il sole e in costume in terrazza. La filosofia del self-love Come sempre, Michelle è una grande fonte di ispirazione e non rinuncia mai a condividere dei consigli sul suo stile di vita su Instagram in particolare. Oltre alle manzioni casalinghe, ha scelto di mostrare come iniziare al meglio la giornata, con una scarica di adrenalina. Musica alta, ballo e soprattutto self-love, sottolineando l'importanza di imparare ad amare noi stesse. Non ha proprio intenzione di stare ferma, adrenalina pura, grinta senza eguali. Mai perdersi d'animo, insomma, ma trovare sempre un motivo per sorridere. Come sta Michelle Hunziker? Dopo aver ufficializzato di essere positiva al Covid, la Hunziker ci ha tenuto a informare sul suo stato di salute. È asintomatica, sta bene e rimarrà in isolamento per qualche giorno, fino a quando non si negativizzerà. Ciò nonostante, per Michelle è un periodo positivo, in tutti i sensi, se così si può dire. Dopo la separazione da Tommaso Trussardi, il suo cuore è stato conquistato da Giovanni Angiolini. Il magazine Chi, del resto, ha condiviso di recente degli scatti a Parigi, la Law Story sta procedendo a gonfie vele. La conduttrice è stata fotografata durante un bacio appassionato al suo Giovanni. Manca l'ufficializzazione dalla coppia, ma pare proprio che non sia un semplice flirt. Qualcosa di più, una storia in cui credere fermamente è da costruire, giorno dopo giorno.